Sempre il 59esimo Congresso Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, sono in compagnia del Vicepresidente dell'Ordine Nazionale degli Ingegneri, Bonfà. Diciamo che questo congresso per noi è un congresso importante dove ancora una volta mettiamo al centro della nostra attenzione i temi del Paese, più che i temi degli Ingegneri. Abbiamo fatto delle proposte concrete al Governo, al Parlamento, che sono quelle di messa in sicurezza del Paese, sia dal punto di vista idraulico che dal punto di vista sismico. Dando anche dei dati per individuare un percorso per le risorse, perché le nostre proposte sono proposte concrete, che risolvono i problemi e che danno anche la disponibilità economica. Noi pensiamo che la messa in sicurezza sia primaria, ma anche dotarsi di strutture, infrastrutture, sia materiali che immateriali, perché il Paese cresca. Un altro aspetto che abbiamo evidenziato e che crediamo sia primario è quello di ridurre la burocrazia. I costi sono enormi e sono un danno per il sistema Paese e anche mettono in difficoltà potenziali investitori. Quindi tutto ciò crea una sperale negativa per il nostro Paese. Ho citato nell'intervento di questa mattina delle norme che veramente sono inconcepibili, perché non si capisce quello che il legislatore vuol dire ed è difficile operare con una norma che non è capibile o interpretabile. Quindi questo è uno degli aspetti. Allora, io mi avvierei a una seconda domanda. Vorrei capire, l'Ordine Nazionale degli Ingegneri, il futuro Presidente, secondo me che lo auguro, perché è un giovane, cosa potrebbero fare per il territorio e quanto potrebbero seguire realmente questa provincia in difficoltà? Beh, intanto devo dire dell'immensa e graditissima ospitalità che abbiamo trovato in questa terra. Non avevamo dubbi, ma la categoria è onorata di essere arrivata a Caserta. Cosa possiamo fare come ingegneri? Le proposte che noi facciamo di carattere generale sono proposte che aiutano i giovani, che mettono in sicurezza il territorio. Il territorio di Caserta, la provincia, ha mille potenzialità in espresse, ha delle possibilità. Bisogna superare quelle negatività che per troppo tempo hanno caratterizzato il territorio. L'impegno degli Ingegneri c'è a livello nazionale e sarà particolare per questa area.